carlotta asmr ciao a tutti ragazzi come state? spero stiate bene allora non so quando uscirà questo video, ve lo dico subito ma oggi nel momento in cui lo sto girando è mercoledì 18 marzo e non toccherò determinati argomenti perché voglio sia un momento di relax sappiate solamente che anch'io sono come voi confinata anche essendo in Francia parentesi quindi ho tanto tempo per fare diverse cosine sarà un get ready come vedete perché sono completamente struccata ma semplice così per fare due chiacchiere sapete che io non mi trucco, mi sto truccando per girare altri video questa postazione è nuova ma l'avrete già vista in qualche altro video già uscito e spero vi piaccia dovrei aver fatto perché è quello che voglio fare tra un po' un video cromo cromo terapico diciamo così in cui i colori qui dietro cambiano ce ne sono diversi ma il blu è quello che preferisco iniziamo vi voglio far vedere la mia maglietta pampling adorabile perché ve la metto qui e niente approfittarne così per fare due chiacchiere mi sono già lavata il viso messa crema e tutto quanto ditemi un po' di voi come state, che fate molto probabilmente non so se noterete ma molto probabilmente dovreste notare un cambio di risoluzione nel video perché ho avuto una sembra che io praticamente ultimamente racconti solo i problemi che mi succedono che accadono le vicissitudini spiacevoli della vita ma praticamente è una nuova fotocamera quella che sto utilizzando per registrare e ringrazio tutti, tutti i sostenitori del canale fino ad oggi perché senza di loro mai avrei potuto acquistarla e non è quella che avevo acquistato recentemente bensì una Canon SX740HS cosa è successa all'altra macchinetta cioè la Sony che avevo ve lo racconto subito intanto mi metto un po' di correttore e guarderò in giù per applicarlo perché è un specchio messo qui chi ha problemi con il fatto che utilizzo bio perché ho ricevuto dei commenti spiacevoli non guardate i miei video semplicemente è molto più semplice per voi soprattutto per voi ma anche per me allora sto utilizzando questo correttore di Color Caramel spero lo vediate bene che dovrebbe essere Color Caramel dovrebbe essere in francese ma penso sia un'azienda italiana non ho capito ancora bene ed è il numero 08 è reperibilissimo su internet proprio senza problemi e mi sto trovando benissimo con questo correttore che è molto color albico calpicoccoso e tutti i tutti i packaging di Color Caramel si dice così sono in carta questo è un motivo per cui mi piace molto e lo scaldo un po' con le mani altrimenti è troppo duro allora dicevo vi metto i link o i nomi insomma di questi tre tre prodotti che sto per utilizzare perché sapete che non mi trucco allora vi dicevo che l'altra macchinetta Sony che io avevo acquistato su Amazon ad un certo punto ha smesso così così ha smesso di funzionare e ovviamente l'ho rimandata indietro il problema è che l'ho praticamente ho detto praticamente otto volte scusatemi questa macchinetta fotocamera con la quale io mi trovavo benissimo così all'improvviso ad un certo punto ha smesso di far uscire l'obiettivo si vedeva proprio l'obiettivo che cercava di uscire e non usciva e vabbè quindi ovviamente ho chiamato Amazon che mi ha detto ce la mandi in riparazione l'ho mandata in riparazione e l'attesa e le telefonate allora ho fatto tipo 15 telefonate 15 ragazzi in un mese e mezzo perché di cui le ultime proprio tipo sotto minaccia perché volevo riavere il mio stomaco volevo riavere assolutamente la la macchinetta fotocamera loro dicevano il primo risponso l'ho avuto dopo 14 giorni 10 circa dal dall'invio al centro di riparazioni e il risponso è stato il danno l'hai creato tu perché ci sono delle tracce dei colpi sulla macchinetta e mi hanno allegato le foto colpi che non c'erano sulla mia macchinetta prima e già lì mi sono stranita perché cioè sarei davvero poco intelligente a far cadere qualcosa mandarla con dei segni evidenti di caduta e quindi farmela rimandare indietro è ovvio sarei stupida sinceramente e quindi ho cercato di spiegare loro tramite il servizio clienti questo è il problema perché ho cercato di spiegare loro che io non avevo fatto cadere la macchinetta e che ero anche un po' alterata perché la macchinetta io non gliel'ho mandata in quella statua cioè per me potevano averla fatta cadere loro ok il problema il problema è che non si può parlare con il dipartimento lo chiamano dipartimento riparazioni quindi io parlavo ogni volta con una persona diversa che doveva fare un sollecito vabbè il punto non è questo il punto che quando ho rifiutato il loro preventivo loro mi hanno detto che per riparare la mia videocamera ci volevano 186 euro ragazzi e che ci può anche stare ma non mi hanno spiegato cosa andavano a fare mi hanno detto se vuoi che te la ripariamo dacci 186 euro ok mi dici cosa è rotto in genere un preventivo si fa così parentesi adesso sto utilizzando la matita verso fracciglia di color caramella che ha questa parte con il pettinino e la parte con la matita dovrei anche quasi temperarla ed è la numero 602 credo dovrebbe essere la 602 non so se vedete la scritta ci trovo benissimo con questo proprio molto bene e quindi prendo lo specchio e dunque quindi ho detto loro che avrei cioè ci poteva anche stare ok l'avessi creato io il problema ma volevo sapere visto che avevo comprato la videocamera un mese prima un mese prima ragazzi volevo sapere quale fosse il problema perlomeno niente perché si doveva passare sempre per il servizio clienti e e niente quindi comunque un continuo un continuo parlare chiedere ma scusi ma insomma ma faccia un altro sollecito abbiamo già sollecitato ne faccia un altro per favore vorrei riavere la mia videocamera infatti se vedete negli ultimi video gli ultimi video che ho fatto sono tutti con l'iPhone tutti non vi ho detto niente perché volevo aspettare la la fine di questa storia che è iniziata tipo il 5-6 gennaio dal video che ho fatto in collaborazione con Luca SMR che saluto nel caso è lì che ha smesso di funzionare e infatti quel video è girato con l'iPhone e cambio e e quindi la storia è finita solamente quando io ho cominciato a credere che loro avessero perso la mia macchinetta perché perché continuavo a dire ok non me la riparate ma mandatamela faccio un sollecito faceva il sollecito passava una settimana e niente e io richiamavo voglio la mia macchinetta niente 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 finché alla quindicesima telefonata telefonate che ho registrato tutte con il telefonino con l'iPhone 6 perché non so se si possano registrare le telefonate dallo stesso cioè dal telefono che fa la chiamata quindi mettevo il via voce registravo perché mi stava cioè era veramente ridicola la storia e niente praticamente mi dispiace ma li ho praticamente minacciati di fare qualcosa di denunciarli questo gli ho detto perché non è possibile io vi dico ok non fate né nulla con questa macchinetta ma la rivoglio io l'ho pagata in sostanza quando ho fatto questo e io sono certa al 1000% che loro se la siano persa quella macchinetta io sono certa altrimenti me l'avrebbero rimandata no invece cosa hanno fatto mi hanno detto che eccezionalmente ma mi è data bene anche così eccezionalmente nonostante loro credessero che io avessi torto che l'avessi non so fatta cadere mi hanno rimborsata senza rimandarmi la macchinetta che vuol dire questo è ovvio cosa cioè ad amazon non conviene rimborsarti se hai torto tu no bastava semplicemente rimandarmi la macchinetta e dirmi l'ultima parola è la nostra tu l'hai rotta arrangiati e mi hanno rimborsata quindi venerdì scorso quando qui era tutto normale venerdì aspettate lunedì 16 domenica 15 sabato venerdì 13 sono sono andata ad acquistare in un negozio fisico non dall'amazon questa videocamera e basta che mi piace tanto 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 ha le stesse caratteristiche ha un po' più megapixel ora sto usando gentleman di mulacca che già avete visto e già mi sembra mi sembra infinito infinito questo questo mascara mi sembra infinito e e niente ah no volevo mettere la matita non va non la metto ecco questa è la mia voglia di truccarmi e niente è finita così è finita bene solo mi dispiace ovviamente aver non aver avuto per tutto quel tempo la la possibilità di girare con una macchinetta nuova questa qui costa di più questa l'ho pagata 419 e li vale assolutamente tutti senza ombra di dubbio secondo me no devo spostarlo solo che all'interno c'era anche un piccolo cavalletto che è quello che sto utilizzando e la una custodia ok bene direi che sono pronta come al solito non ho messo praticamente nulla ma questo è il modo in cui io mi trucco e penso di aver perso anche molto tempo a truccarmi un quarto d'ora tantissimo invidio veramente invidio io a volte ho voglia di truccarmi di più non so perché ma il 99% delle volte questo è il mio trucco cioè non c'è praticamente ma mi annoio la trovo proprio una perdita di tempo mentre adoro guardare le altre persone che si truccano donne o uomini è indifferente mi piace molto guardare le persone che si truccano ma su di me lo trovo una perdita di tempo non perché non ne abbia bisogno non sto dicendo questo ma perché boh non lo so mi pare una perdita di tempo ecco l'ho detto 5 volte allora spero di avervi fatto compagnia e ovviamente vabbè lo dico alla fine ma questo non era un tutorial di niente di zero proprio e niente vi mando un bacione vi abbraccio virtualmente tutti e forza ciao